Chi percorra oggi Emilia e Romagna, che è uno dei più belli e fascinosi viaggi d'Italia, coglierà nelle città e cittadine da Piacenza a Rimini il panorama umano e quotidiano di una vita popolare che ancora unisce passione fremente e urbanità cordiale e festosa. Chi si addentri e si dilunghi per le bellissime strade del piano e poi sui grandi argini dei fiumi e sulle spiagge marine lagunari, godrà l'ampia serenità di una campagna ferace sotto il sole e sotto le nevi e nelle vaste nebbie fantasiose. E fantasiosa, se il tempo lo favorisce, gli apparirà la vista lontana degli appennini, che da presso, seguendo nelle pendici verdi e azzurre, è amenissima e dolce. Grazie a tutti.